Buonasera, la seconda elezione del Tg Libera dei Fiori, telegiornale della provincia d'Imperia. Parleremo dell'ultima operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di diverse persone. Poi ci occuperemo ancora del problema smaltimento, il sindaco di Sanremo ha riaffermato la sua fiducia all'assessore all'ambiente. Poi una buona notizia per il recupero dell'ex forte di Santa Tecla e un caso legalità per quanto riguarda il comune di Valle Crosia. Ma ne apriamo con la cronaca. Un grosso mattarello di legno posato su un sedile di un'auto parcheggiata spesso in rivieto di sosta in una centrale via di Sanremo è all'origine di un'indagine dei carabinieri che ha portato all'arresto di 5 persone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La Polizia Municipale nel multare l'auto aveva notato più volte il mattarello di legno posato sul sedile posteriore della vettura parcheggiata tra vie volte via Pallavicino nel pieno centro di Sanremo. Altri abitanti della zona avevano segnalato lo strano comportamento di alcuni cittadini dell'est affittuali di un appartamento al Civico 33. I militari raccolti le segnalazioni hanno atteso il proprietario dell'auto ed hanno finto un normale controllo nel corso del quale l'uomo non ha fornito spiegazioni sul perché girasse in alto con quell'attrezzo da cucina. Durante la verifica l'uomo ha tentato di telefonare alle persone nell'appartamento ma è stato preceduto dai carabinieri che hanno fatto irruzione trovando altre quattro persone, tre donne e due uomini, tra cui i genitori dell'uomo fermato. I militari hanno rinvenuto le convenzioni di droga in dei tre diversi punti della casa, in piena vista anche nella sala dove si trovavano altre persone che sono state quindi arrestate in quanto non potevano non essere a conoscenza delle attività dei congiunti. Probabilmente due di loro avevano appena portato della droga da Milano a Sanremo, droga pronta per essere spacciata nel corso delle vacanze di Natale. Due panetti di eroina da circa un chilo e sul cui grado di purezza si dovrà esprimere il laboratorio, oltre a un centinaio di grammi di cocaina ed un po' di marijuana è il bottino delle forze dell'ordine. Il valore, a seconda del taglio della droga, si agirebbe intorno ai 200 mila euro. I sei sono stati tutti arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi portati in carcere. Le donne a Ponte X, gli uomini a Sanremo, tutti in attesa dell'interrogatorio di convalida. E veniamo alla pagina amministrativa. A seguito delle richieste di dimissioni dell'assessore Antonio Ferra, delegato all'ambiente del comune di Sanremo, avanzati da alcuni consiglieri di minoranza nel corso dell'ultima seduta del Consiglio, oggi il sindaco di Sanremo, Maurizio Zuccarato, ha riaffermato la fiducia verso il suo assessore. Un conto sono la dialettica e la diatriba politica e un conto l'offesa personale, ha sottolineato il primo cittadino. Ne arriva a dire la mia fiducia all'assessore Ferra, ringrazio i consiglieri per i suggerimenti, ma ricordo che la fiducia agli assessori la dà e la toglie il sindaco. Ricordiamo che la richiesta di dimissioni per Antonio Ferra è raggiunta appunto nell'ultimo Consiglio Comunale che vi abbiamo trasmesso in diretta, quando è stato affrontato in apertura il problema della variante urbanistica del lotto 6 per smaltire i rifiuti dell'imperiese, lotto che dovrebbe essere realizzato in zona di Colletto Zotto. Il lotto 6 non ha nulla a che vedere con l'attuale discarica di Colletto Zotto che stiamo vedendo e che è stata approvata con delibera provinciale e regionale attraverso la conferenza dei servizi che ha richiesto la via alla valutazione di impanto ambientale data attraverso precise relazioni degli enti proposti, tra cui l'ARPAL e l'AS. La discarica di Colletto Zotto all'otto numero 5, come vediamo dalle immagini, è stata realizzata con le moderne procedure di impermeabilizzazione a 5 teli bentonitici, ha notevoli strati di ghiaia e di argilla che la proteggono ed ha rispettato tutte le normative previste. Infatti è stata adottata attraverso la società che le arrestisce idroidi della dichiarazione E-Masse ed Iso 2001, dichiarazione che attestano la tutela ambientale, che sono garanzia di tutela ambientale. Vediamo infatti le procedure di alcuni mesi fa per la conduzione della discarica che sta funzionando. Il lotto 6 invece non ha nulla a che vedere con l'attuale discarica, verrà infatti realizzato su terreni pubblici, sarà il primo sito pubblico e verrà affidato con una gara internazionale europea. Come verrà affidata con gara europea? Per la realizzazione dell'impianto di smaltimento provinciale che dovrà sorgere, secondo l'amministrazione provinciale e lato, in Regione Colli. E con la firma ieri passiamo a parlare invece di strutture, di progetti urbanistici, in questo caso relativi alla riqualificazione dell'ex fortezza di Santa Tecla, un monumento storico nel cuore di Sanremo, vicino al mare. È stato firmato ieri il protocollo d'intesa fra il Comune, il Ministero per i beni e le attività culturali e la sovrintendenza per i beni architettonici proprio per il recupero del forte. Il documento siglato ha per titolo Per il recupero e la rifunzionalizzazione e valorizzazione del forte di Santa Tecla. I lavori potranno iniziare entro la prossima estate, grazie ai fondi comunali, un anticipo di 50 mila euro sui 380 mila che dovranno essere stanziati per il recupero. Dovranno essere effettuate le gare di appalto per i lavori di risistemazione. Il costo totale complessivo sarà di 4 milioni e mezzo, di cui 1 milione e 520 mila euro fanno parte di un finanziamento europeo, mentre gli altri fondi necessari all'operazione saranno erogati dallo Stato, dalla Regione e dal Comune di Sanremo. E passiamo ora a parlare di un altro Comune. Se si è parlato in questi mesi di un caso legalità per la provincia e l'Imperia, si è parlato attraverso le operazioni della DIA sul territorio di infiltrazioni malavitose nel territorio provinciale, nei diversi strati economici della provincia ed anche di rapporti particolari fra amministratori e personaggi legati alla malavita organizzata. C'è quindi un caso legalità che ha investito le amministrazioni comunali prima a Borghiera, poi a Ventimiglia, che dovrà essere successivamente verificato. Adesso questo caso legalità è stato affrontato nel Consiglio Comunale di Vallecrotia. Sentiamone un passo. I sospetti devono trovare una risposta e la mia maestra per fare piena luce sulla questione è quella di richiedere che una commissione di accesso faccia le indagini necessarie. Chi non ha niente da nascondere non avrà niente da tenere. Anzi, personalmente ho chiesto al Prefetto di essere sentito per ragionare proprio su questa logica della trasparenza amministrativa di richiedere noi per primi quello che deve essere un eventuale controllo. Ancora oggi ho mandato un fax alle ore 16 per chiedere urgentemente un incontro con il Prefetto e per ragionare con il Prefetto quali possono essere le procedure di carattere amministrativo in queste classistiche, proprio perché non abbiamo nulla da nascondere. Quindi in Consiglio Comunale si è riaffermato che questo caso di legalità non esiste per il Comune di Vallecrotia e comunque tutti gli aspetti verranno discussi e affrontati insieme con il Prefetto Fiamma Spena. Il Consiglio Provinciale invece di Imperia si è occupato della Riviera Trasporti. La Riviera Trasporti ha come azionista di maggioranza proprio l'amministrazione provinciale. Il Consiglio, dopo un'animata discussione per verificare le diverse criticità della stessa società che ha recentemente attuato la mobilità e la messa in casa integrazione di alcune delle sue unità, è stato votato l'accordo di programma a maggioranza tra la provincia e i comuni per la determinazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico nel locale. E quindi la seduta poi ha insieme continuato con la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Giovanni Bosio e della surroga con il primo dei non eletti che appunto prende il posto di Giovanni Bosio. Lasciamo il Consiglio Provinciale di Imperia, ci occupiamo ora di musica. Fredi Colte. Domenica 23 comincerà un'iniziativa che abbiamo voluto intitolare Swing Corner of Christmas, cioè l'angolo swing, l'angolo della canzone sincopata ed è un evento collaterale al Giardino del Terzo Paradiso firmato Pistoletto che si è già inaugurato in Piazza Borea Dolmo. E con il centro studi Stankenton e il sultanato dello swing, il comune naturalmente, si è voluto appunto dare anche un colore musicale, una tinta festiva a questo spazio che è stato recuperato alla città. Io mi sono occupato di programmare gli spettacoli e i concertini che abbiamo voluto chiamare concerti aperitivo perché sono nell'orario dalle 11 a mezzogiorno e mezza circa e le persone che gireranno nel centro di Sanremo potranno ascoltare, a partire da domenica e in altre date anche successive, cinque diversi spettacoli legati allo swing soprattutto italiano. Domenica abbiamo un esordio con il mio quintetto e ospite il sassofonista Livio Zanellato e proporremo dello swing anni 50, quindi musica di Bruno Martino e di Nicola Rigliano, Sinatra, anche appunto cose americane. E poi a seguire ci saranno dei tributi a Lelio Lutazzi soprattutto e a Pippo Barzizza, Alberto Rabagliati, Natalino Otto, Gorni Kramer, insomma vari personaggi che hanno fatto la storia dello swing italiano. avremo modo con ospiti diversi di ascoltare le canzoni che hanno fatto la storia appunto di questo genere in Italia e nello stesso tempo ascoltare anche dei cantanti o dei musicisti della nostra zona ma anche provenienti da fuori. Avremo da Genova Michele Savino, da Roma Paolo Tagliaferri, dalla Toscana Francesco Giorgi e altri ospiti che ci raggiungeranno durante queste feste in Piazza Boreadolmo allo swing corner. Un'ultima notizia, ne è mancato questa mattina Gianni Natta, 66 anni, già consigliere comunale, grande sportivo, appassionato di calcio, membro del consiglio direttivo dell'Argentina Arma, segretario della sesta Argentina Arma e prima ancora della Sanremese, molto conosciuto ed apprezzato a Sanremo e nella sua Bussana. Le esegue verranno celebrate domani nella chiesa parocchiale di Bussana a partire dalle 14.30. Gianni Natta lascia la moglie Mara, la figlia Cecilia, tantissimi amici e alla famiglia Donetti Natta le più sentite condolianze di tutta la nostra redazione. Bene, nera l'ultima notizia, adesso Achille Penelatore col metro Liguria subito dopo gli spazi approfondimento. Grazie di seguirci. A tutti buonasera. Sta passando questa debole perturbazione e ci abbandonerà già nel corso della notte, avrà uno strascico nuvoloso domani venerdì. Poi ci sarà un bel intervallo a cavallo della domenica, quindi sabato, domenica e lunedì della vigilia e poi un altro peggioramento proprio per il pomeriggio del Natale e una parte di Santo Stefano. Qualcosa già vi avevo accennato ma ve lo devo confermare. Poi nei prossimi giorni, domani e lunedì, confermeremo ulteriormente. La situazione attuale, eccola qui, questa perturbazione che transita con fronte caldo, la parte più fresca, ma le temperature è una cosa relativa, non è che diminuiranno poi più di tanto. Qualcosettina perderanno, ma neanche tanto. Io andrei già alla prima cartina che è quella della prossima mezzanotte, cioè l'una ora italiana e la posizione della perturbazione sarà questa. Direi fra Tolone e Canna e Nizza e noi siamo qua in attesa che passi. Perturbazione bassa a ovest della Sardegna, quindi pian piano andrei là e adesso vediamo. 12 ore dopo dove sarà arrivata questa perturbazione, la vedete si è occlusa ed è qua sulle coste del Tirreno. Poi c'è quest'altro corpo nuvoloso ma si sfalderà in un certo senso passando sulle nostre zone, passerà il fronte caldo ma quello freddo si annienterà da solo. Andiamo alla previsione per domani, venerdì, con ancora qualche nuvola, qualche precipitazione residua direi da Caponoli verso il Genovesato, la riviera di Levante e anche lo spezzino, ma amici di questa zona già bersagliata parecchie volte dalle piogge, non preoccupatevi più di tanto, Monte Marcello, Amelia, Fiumaretta e Marinella, perché non succederà granché, solo qualche pioggia debole. Invece direi da Caponoli verso la costa francese, Nizza, Cannes, ancora qualche nuvola bassa ma senza precipitazione, ovviamente alternata a qualche occhiata di sole. Temperatura in misurata diminuzione, vento che ruoterà con l'arrivo delle schiarite tra ovest e sud-ovest, 10-20 nodi a largo con mare poco mosso sotto costa, tra poco mosso e mosso sulle zone del largo. Andiamo adesso alla cartina successiva, è quella tra sabato e domenica. Vedete che si è aperta quella forchetta di quella perturbazione, transita il fronte caldo, quindi quando passa un fronte caldo che agisce, opera in un campo di relative alte pressioni, darà solo qualche transito nuvoloso, ma generalmente il cielo sarà poco nuvoloso. Per la domenica vedete che siamo fra un fronte caldo e quello successivo, quindi le temperature per domenica, oltre ad avere il sole, aumenteranno livemente, venti deboli. Guardiamo adesso in ultimo un'altra cartina e anche per lunedì più o meno sarà come la domenica. Questa è per mezzogiorno di Natale, bassa qua sul nord Italia, noi siamo in piena circolazione ciclonica, quindi per Natale, durante la giornata e Santo Stefano, dovremmo assistere a un peggioramento con pioggia sulla costa, neve e montagna, ma avremo modo ancora di mettere a fuoco questa previsione. Grazie a tutti e buonasera.